Allora, professor Bennato, professor Degli Esposti, professor Savonardo, 14 film, che offerta è questa settimana, questa offerta settembrina? Professor Bennato, andiamo subito a Catania. Bene, è un'offerta bella consistente, dal punto di vista cinematografico la tavola è ben apparecchiata e incontra gusti e sfaccettature molto molto diverse. Io, appunto, mantenendo questa metafora, se dovessi gettarmi su alcuni film piatti che incontrano più il mio interesse, sicuramente i documentari. Le mie poesie non cambieranno il mondo, per esempio, mi incuriosisce molto, soprattutto per la figura di Patrizia Cavalli, che è una poetessa importante, contemporanea, quindi anche vedere, che tra l'altro è morta l'anno scorso, proprio durante, mi pare di capire, la post-produzione proprio di questo documentario, quindi è anche un modo per incontrare il contemporaneo utilizzando la poesia. Poi c'è sicuramente Cile, il mio paese immaginario, non fosse peraltro che proprio quest'anno ricorre il cinquantenario del golpe di Pinochet, quindi la morte di Allende, quindi anche per ricordare cosa sia stato quel periodo e soprattutto capire come il Cile ha dovuto fare i conti con quel tipo di storia. Invece dal punto di vista più delle mie passioni, più legate all'intrattenimento, comunque al mio amore per il fantastico, c'è sicuramente da un lato In The Fire, anche se è stato un po' massacrato dai critici, perché appunto mi piacciono molto le atmosfere gotiche, e poi c'è sempre mantenendo l'atmosfera gotica, Assassina Venezia, più che altro perché mi incuriosisce Branagh quando fa il Hercule Poirot. Se proprio dovessi cambiare pietanza, sceglierei Patagonia. Non è proprio uno dei film che appartengono al mio gusto, ma mi hanno molto incuriosito le immagini e soprattutto alcune specie che ho visto dell'interpretazione degli attori. Sentiamo il professore degli esposti. Professor Benato, il professore degli esposti e il professor Savonardo, il vostro commento alla classifica. Professor Benato. Mi sembra di vedere che stiamo assistendo all'onda lunga dei film che hanno caratterizzato questa nostra estate. Ovviamente penso in particolare a Barbie Oppenheimer, uno di luglio e l'altro di agosto, che io ho visto e me ne sono anche molto goduti, essendo un appassionato dall'altro di Nolan, quindi è stata per me un'estate da questo punto di vista molto piacevole. Quello che mi sembra di vedere è che comunque bisogna ancora aspettare i grandi film, appunto evento, che hanno reso importante l'ottantesima mostra cinematografica di Venezia, quindi secondo me potremmo cominciare a fare un po' i ragionamenti soprattutto sui film come ad esempio io, Capitano, soprattutto nelle prossime settimane.